ciao ragazzi aspetta fammi vedere ha iniziato credo e oggi giocheremo a minecraft ovviamente a casa mia ma che significa ovviamente a casa qui aspetta si vede un po sfogatino bene no prende a fuoco quanto vuole non fare niente che si romano x x x no nuovo mondo aspetta no 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 metti vai su carica su carica su carica non credo scusate raga mi sta stranando le orecchie come si passa hai messo un'altra modalità mi hai messo un attimo un'altra modalità dai a me ma c'è la pizza esci dal gioco ma sai come si esce esci aspetta ecco perché lo riprendi ok ora ragazzi questo padrone carico e non muovere niente per favore serve ok ma mi ritrovo sempre qui non mi uscire dammi per me due volte x sempre due volte sì ok tutta la via non sono abituato questa è la mia casa bellissima tutta mamma aspetta ma sarà porta sì sì come si apre qua ok bene due letti e basta quattro letti guarda un pappagallo tengo dove ah eccolo poi tengo un altro lui sta sempre là non so perché allora la vogliamo arredare un pochino dentro beh che vuoi immobili ma immobili non tiene qualcosa c'è qua dentro no 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 immobili anzi vogliamo creare una cosa allora ragazzi io domani inizio a fare un video vogliamo creare una cosa divertente domani ragazzi io creare un video alle ore alle ore in sei a forse per le 11 12 perché io mi sveglio sempre alle 11 perché sono sul labbolo non mi voglio dare dal letto forse a mezzogiorno inizio a fare un video ma quando esce il video a mezzogiorno e 10 mezzogiorno no luna meno 10 perché ci metto un po intanto allora vai io faccio cose di vero cazzo stai facendo povero povero leo scusate ma sul mio canale devi ruttare guarda che pure il mio allora domani faccio un video su youtube bagpettiamo non non ci non ci gioco da tanto tempo non distruggere tutto allora può spazzerla lucca credi vediamo si può arrivare Forse il vostro è molto colorido, forse. Ok, metto qui. Siamo un po' in basso, Yusso. Un po'. Ah, lo possiamo fare così? Yeeeh! Non capito niente. Yeeeh! Vogliamo, ora creo la mia casa. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Guarda, giù il cazzanotto. No. Non ti permette. No. Ok, allora. No. Non la fare. Sai che c'è pure l'oro? Sì. Però questi qua sono il più importante. No, aspetta, aspetta. La fai da un'altra parte. Tieni. Ti faccio vedere io dove. Guarda, già sei minuti. Gli ultimi minuti e poi finisce perché sennò poi qua siamo troppo tempo. Se vabbè addirittura. La mia casa è dimenticata. Quindi ragazzi, questo video può finire qui perché sei minuti sono già tanti e ci mette tanto a caricarsi. Quindi un saluto da? Ciao. Aspetta. A domani. Da ciao a domani e anche da me mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate like. Bella. Ciao.